Voltiamo pagina a una Corato invisibile, nascosta e segreta, mai vista prima d'ora. E' la protagonista della mostra Memorie dal Sottosuolo, l'evento organizzato per il periodo natalizio dall'Associazione Lavorare Stanca, con il patrocinio del Comune di Corato e dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, che vede esposte le opere di 14 giovani artisti, tra dipinti, sculture, video e installazioni, sul tema della memoria. Noi quando siamo entrati in questo spazio cercavamo un posto per una mostra, una mostra che avevamo in mente, ma che in realtà era diversa rispetto a quella che poi abbiamo messo in piedi. Perché? Perché entrando in questo posto abbiamo respirato un'aria, un'aria poi architettonica, oltre che, come dire, di odore, di umidità, che ci ha richiamato, ci ha riportati all'arte contemporanea. Quindi abbiamo pensato di rendere questo spazio dove la pietra, dove queste volte a botte o a crociera si fondano con degli interventi di cemento, anche molto pesanti, in certi casi necessari. Abbiamo detto che è il posto ideale per un percorso di questo tipo, un percorso che mescoli la storia di Corato e l'arte, in questo caso la memoria, che è il tema portante di questa attività che stiamo svolgendo in questi giorni. Ricordiamo fin quando sarà visitabile? Dal 23 dicembre fino al 6 gennaio, dalle 18 alle 21 e 30.